Mille voci. Quelle voci che, alte o sommesse al cuore, chiedono udienza. Sono le voci di mille donne, che nel tempo hanno gioito, amato, sofferto per figli, padri e mariti. Sono le voci antiche della mia famiglia di donne, che ancora mi chiedono ascolto. La mia bisnonna venditrice di tabacchi, che Vegliarda, nella sua età trascorsa, dettava ordini dalla seggiola antica. Nonna Olimpia, io la chiamavo la mia bisnonna, e nella vecchia casa dall'ampio giardino circolare viveva. E mia nonna Lillina, la giovane vedova del suo amato e rimpianto Vincenzino. Ma le voci di donne corrono a una città di mare, dove una vecchia donna vedova sbarcava in lunario vendendo saponi e correndo la grande città di mare con le sue scarpe di pezza a quadri per sfamare i suoi dici figli. Vecchie donne, vecchie voci, e anche la donna che mi ha generato ora è diventata vecchia. I suoi occhi sono ancora più piccoli e tondi, come se avessero timore di guardare il futuro. Il passato rivive nella sua voce, soave voce di mamma, che mi cullava nel dondolo della mia colla. Oggi, io madre novella e non più giovane, dalle corse veloci ed no sempre precisi e insistenti, cullo nella mia colla il mio piccolo infante e le voci non sono finite. Finito non è il tempo, finite non sono le donne che per fortuna ancora generano, ancora lottano, ancora vivono il sogno del loro eterno amore alla vita, sempre nascente e fuggente.